Materie prime alle stelle, aumento dei costi energetici e difficoltà a reperire personale specializzato. Sono questi alcuni dei problemi che stanno mettendo in crisi il settore della panificazione in Sardegna, un tessuto imprenditoriale formato da oltre 1.400 imprese che danno lavoro a migliaia di dipendenti. A lanciare il grido di dolore di un comparto che vanta una grande tradizione nell'isola, Gian Pietro Secchi, presidente regionale dei panificatori di Confcommercio, che chiama in causa le istituzioni regionali affinché intervengano per sostenere un settore strategico del sistema produttivo sardo. Secchi ricorda che dal 2016 il settore è normato dalla legge 4, approvata dal Consiglio regionale, che riconosce il ruolo della panificazione del pane fresco, ma alcuni punti della norma sono ancora inattuati e col nuovo esecutivo, sottolinea Secchi, tutto si è fermato. I panificatori in questo 2021 si stanno confrontando con diverse difficoltà. La farina di grano duro nel giro di due mesi ha raddoppiato il prezzo, passando da 55 centesimi a 1 euro al chilo, quella di grano tenero da 40 centesimi a 70, ma potrebbe arrivare anche a 1 euro. Altro punto dolente è quello energetico, con l'aumento dei costi, che per le imprese sarde sono superiori a quelli di altre regioni che dispongono del metano. Tra le richieste avanzate dai panificatori di Confcommercio alla regione, quella di un provvedimento che riduca il costo dell'acqua, un indennito per chi utilizza gasolio o energia elettrica per la produzione.